Prima di far partire il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e pollici su. E ma Manuel non ti conosciamo, mi è capitato per caso questo video. Non mi interessa niente, fidatevi di uno sconosciuto, fidatevi di questo scemo. A voi il video. Anno nuovo, stagione, nuove abitudini vecchie, ragazzi. Rigorissimo non dato alla Sampdoria. E tutto sommato, ragazzi, lo sai che cosa vi dico? Che la Sampdoria, per come si è scansata ieri, se l'è strameritata. Tutti adesso ad esaltare il gioco della Juve, il grande Pirlo, il super Pirlo. Ragazzi, ci ha fatto vedere il 3-5-2, un modulo che non abbiamo mai visto in vita nostra. Oh, minchia quanto è bravo questo Pirlo. Parlando seriamente, ragazzi, la Sampdoria ormai è un'ex squadra di prestigio del nostro campionato. Quindi è da giudicare e da valutare come se fosse, con tutto il rispetto, poco più che un crotone. Ai livelli del Gena, che ogni anno si salva per il rotto della cuffia. Si può paragonare a un Chievo-Verona, a un, non lo so, a un Frosinone. Non è attendibile la partita di ieri, non è attendibile. La Juve ha vinto strameritatamente, con o senza rigore. Avrebbe vinto, perché la squadra della Sampdoria, magari anche l'allenatore si è fatto abbastanza vecchiotto. Magari non ha più quel mordente e quel seguito che poteva avere prima nei confronti dei giocatori. E niente, 3-0 che ci sta tutto. Di una squadra, la Juve, che come Rosa, rispetto all'anno scorso, si è indebolita. Perché Iguain, prima punta, era un gran attaccante e lo è tuttora. Farebbe comodo anche a noi, oltretutto. E l'allenatore, ragazzi, l'allenatore non può inventarsi nulla. Se non sei allenatore, non puoi raggiungere certi risultati come allenatore. Eh no, ma il Barcellona con Guardiola, Guardiola si era fatto quasi, non so, 5, 6, 7 anni di settore giovanile. Quindi l'allenatore l'aveva fatto. Pirlo non ha fatto nulla. Il massimo che è riuscito a fare dal punto di vista tecnico è quello di commentare le partite e post partita a Sky. Quindi la Juve ha vinto 3-0 non è di certo colpa del proprio allenatore. Ma è merito di una Rosa fortissima. E questo gli diamo atto. Per il resto, ragazzi, sono fiducioso per questo campionato. Perché noi, la nostra Rosa, mancano due pedine, un quarto attaccante alla Dzeko, un Higuain, un Mandzukic. Mancano due pedine e anche un giocatore di fascia sinistra, magari se Perisic poi esce fuori dai piani di Conte perché tutti e due hanno un bel caratterino e ho paura di qualche collisione tra i due. Per il resto è una squadra, l'Inter, con il centrocampo più forte della Serie A e 11 contro 11 tutto può succedere. Possiamo vincere, possiamo perdere, ma se l'Inter gioca con lo spirito che ha dimostrato l'anno scorso trasmesso dal proprio allenatore, ce li mangiamo. Questi stanno già, noi siamo già orientati alla Fiorentina, questi stanno già a pubblicare tatuaggi di Vidal. Pubblicate quello che volete, ragazzi. Siete più patetici voi che vi fate i tatuaggi, le iniziali, i cuoricini, le labbra delle vostre ex e adesso non ci siete più insieme, vi hanno messo le corna e si fanno trombare dagli altri. Quindi state a giudicare Vidal perché ha il tatuaggio di due scudetti pinti da lui, ci mancherebbe che non fosse orgoglioso. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. La Juve con aiuto arbitrale o non ha vinto 3-0 con la Sampdoria, una partita farsa di una Sampdoria che ormai è un'ex grande squadra della Serie A. Quindi buon caffè a tutti, avanti Inter, andiamoci a prendere lo scudetto.